Mariana? Intanto lo leggo perché nel suo genere Toninelli non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi abbiamo fatto di tutto, perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne avrà bisogno questo per noi è stato governare l'Italia quindi un sacrificio inutile e anche Fraccaro ha detto che Conte è l'unica però bisogna vedere quanto siano compatti gli altri attorno all'orso Telese cosa significa questo?